Bandiera, una vita all'Atalanta, il numero 6, Giampaolo! Il numero 27, Cristiano Ari! Il presidente della Lega prende la parola. Grazie ragazzi! Grazie ragazzi, grazie ragazzi, grazie ragazzi, grazie ragazzi, voi mi scuserete se prima di consegnare la coppa alla nostra carta, non lo saremo per voi, siamo sempre per voi, non mi lasceremo mai. A la parola, a la parola, a la parola, a la parola, a la parola.